Per la legge. Conosco un prete in Puglia di nome Luca dall'occhio languido e dal cuore contrito. Non ha delizia anche se sopraffina dal viso anemico della beghina che mentre recita l'Ave Maria sospira e biascica l'upapa mia. Commento. Il prete santo e la donna beghina per la legge appartengono alla stessa gamma di sentire altrimenti non si sarebbero creati percepiti.